oggi siamo qui con un personaggio che ha una storia molto ricca da raccontarci camperista adesso anche lui fa lo youtuber come me e poi youtuber di una parola grossa quando si parla youtube di cose di personaggi che lo fanno da una vita io abbiamo appena cominciato insomma io e davide e poi poliglotta esperienza in tanti tanti paesi poliglotta con lingue difficili quindi davide benvenuto grazie mille benvenuto no benvenuto grazie mille che mi hai ospitato qui nel tuo canale saluto tutti tutti i tuoi video amatori che guardano i tuoi video io sono un tuo fan sono ti ho visto i tuoi video dal piccolo da qualche parte bisogna cominciare grande bene bene allora davide tu sei in una zona particolarissima la zona non battuta dalle persone che vanno alla ricerca di fortuna ti sei scelto un posticino particolare dove sei come come sei finito lì dici un pochino allora sì senza dubbio io vivo nel paese basco francese il paese basco il paese basso in generale è diviso tra spagna e francia diciamo che la parte più grande è la parte spagnola anche probabilmente la parte più conosciuta e c'è una piccola parte che è nel lato francese quindi francofona in tutti e due si parla basco è il paese per intenderci delle corride delle feste tutti vestiti bianco col foulard rosso e farsi correre dietro dai tori in strada la parte più classica più conoscita pamplona dove c'è proprio la festa più importante con centinaia di tori che girano e migliaia di persone che si fanno correre dietro c'è una versione anche francese in una città che si chiama bayonne che è poco distante da me vicino biarris forse più conosciuta il posto è molto bello sono i pirenei atlantici nel lato atlantico della francia poco conosciuto perché probabilmente è un po fuori mano per venirci dall'italia diciamo in auto molto più classico andare nella costa sud costa azzurra per intenderci francese molto più conosciuta e poi dal di lì magari andare in spagna ecco pochi fanno chilometri in più per venire verso la costa atlantica il posto genuino proprio dove ancora deve arrivare le masse sì sì anche anche dal lato storico il paese basco ha avuto anche storia moderna tutta questa fase di attentati dell'etano di tutto quello che c'è stato che ha tenuto lontano diciamo il turismo di massa nel periodo probabilmente più ricco degli anni 80 90 quel periodo lì questo ha fatto tenere un po lontano adesso da quando si è tranquillizzata molto la cosa comunque è rimasta una meta un po poco battuta ci sono anche poche strutture per prendere la gente come turismo di massa diciamo che qui c'è un turismo più di elite come birris è un po una città molto barocca con un'architettura neobasca molto belle molto classico il castellino magari non è tanto conosciuta da tutti è sicuramente molto conosciuto da chi fa surf quello sicuro e questo è uno dei motivi che sicuramente ti ha fatto ha appesato nella scelta no senza dubbio senza dubbio sì 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 il surf fissa da una vita questa è una delle tue passioni sì insieme al snowboard il surf è stato è una mia passione una di quelle passioni che ha cambiato anche proprio la mia vita da dentro le mie scelte diciamo che il surf non è proprio uno stile di vita ma è è lo stile di vita nel senso a chi si appassiona a questi sport qui deve averlo vicino per praticarlo veramente lo devi avere vicino a te non puoi vivere a milano e fare il surfista a meno che ti vuoi fare proprio ogni giorno no mi dicevi una pratica quotidiana sempre sì sì praticamente sì adesso chiaramente adesso ho due figli un po mi sono calmato diciamo però però anche loro surfisti lei già iniziati alla sì 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 chiaro che le tavole non mancano in casa mia è così è così è uno sport chi si appassiona agli sport sia anche invernali o sport di vela o qualsiasi cosa dovevi avere lì non devi avere la possibilità vicino per non puoi fare 600 chilometri 500 chilometri tutte le settimane per muoverti poi magari arrivi le condizioni non sono giuste ritorni indietro sei butti via del tempo insomma è uno sport che se ce l'hai lì vicino lo pratichi è così è una scelta sai per tanti andare all'estero poi si si va dove c'è il lavoro invece tu hai proprio scelto dice no questa è la zona no sì la scelta di qui è stata così sì sì è stata è stata anche valutata chiaramente con mia moglie perché io quando sono venuto qui ero già sposato con due bimbi piccoli molto piccoli e quindi noi siamo venuti qui che conoscevamo già bene il posto perché era il nostro posto di vacanza di da tanti anni conoscevamo perché c'è stato quel camper appunto per mesi in giro su e giù e alla fine abbiamo valutato anche il lato diciamo era il compromesso perfetto che c'era i mari e i monti quindi c'è un po di tutto il clima è abbastanza mite e nello stesso tempo ci sono le stagioni non è un clima da isola nel pacifico dove è tutto uguale piatto per tutto l'anno c'è un compromesso anche a livello artistico nel senso culturale ci sono buone possibilità di lavoro per diventare anche un po più grandi diciamo c'è una bella base forte di anche economicamente diciamo c'è sei in terraferma sei in europa quindi tutto quello che puoi avere dall'europa a livello lavorativo a livello di sicurazione sanitaria a livello di scuola dei bambini la francia è stata una scelta perché comunque a livello di bimbi è quella più assistenzialista la francia ha un sistema se avete dei bambini e vivete in italia in spagna in svizzera o in francia vi accorgerete che la francia vi aiuta di più agli asili gratuiti a partire da tre anni per esempio non si pagano li puoi lasciare fino al pomeriggio tardi molto modulabili negli orari ti danno un reddito piccolo per quelli che hanno un reddito basso c'è un aiuto mensile per ogni bimbo fino a quando ha 18 anni insomma mettono in condizione la famiglia di vivere più o meno normalmente aiutano molto le famiglie numerose anche più figliai più ti aiutano è una bella è una bella sistema e quindi già questo fa cadere il mito che magari uno che sia famiglia dice no troppo tardi per partire è più incasinato invece no trovare il posto giusto tipo tipo la francia potrebbe essere una soluzione perché la famiglia viene ben accolta e quindi c'è la struttura per farlo sì sì chiaramente io parlo sempre per me per il mio caso dopo ognuno ha le sue esigenze ognuno ha le sue le sue scelte le mette davanti alle esigenze che ha in quel momento specifico della tua vita in funzione di quello che anche se te economicamente quello che hai bisogno del tuo lavoro è interessante comunque che uno con i bambini piccoli consideri di partire si riesca poi a sistemare in questo questo posto nuovo quindi è una cosa molto inusuale com'è molto inusuale anche la storia che mi hai raccontato del camper no questo camper che hai preso già dai tempi in cui tu facevi una vita cosiddetta normale e da lì ti ha accompagnato ecco raccontaci un attimino come come è andata questa questa passione dove ti ha portato questo camper sì allora partendo dal fatto che io appunto come hai detto io avevo un lavoro normalissimo lavoravo io vengo dall'artigianato dall'odonto tecnico ho fatto operaio di un grande laboratorio per tanti anni poi ho cambiato in seguito della crisi cose varie che sono finito a fare metallo meccanico diciamo il lavoro più normale del mondo con una parentesi io che mi dicevi il lavoro stabile tutto pagato non c'erano non c'erano cose di cui doversi stressare o preoccupare il posto anche ambito in zona perché il posto sicuro quindi tutta quella serie di benefit erano c'erano quindi la stabilità ti era stata data anche diciamo in giovane età avevi già ottenuto quello che per tanti era un riguardo quindi grande grande cosa che adesso non tanto giovanissimo però diciamo che lei era diciamo nella mia provincia nella mia città italiana io sono romagnolo era lì era una fabbrica molto conosciuta perché ti dava molti aiuti come tutt'uno era una ambita anche in quel settore specifico chiaramente non sto parlando di niente di eccezionale una cosa molto molto normale però era sicuramente un lavoro fisso sicuro che che nessuno ti toccava e proprio in quell'anno lì che sono andato in quella fabbrica nel cambio di lavoro decisi di comprare un furgone e io veni in contatto con amici che diciamo per il mio budget io trovai degli amici che avevano altri furgoni ne vedi pochissimi in giro insomma andai a como in svizzera per comprare questo furgone che era un volkswagen un trasporter terza serie diciamo il quadrato quello che si chiama scubidu per più conosciuto diciamo forse quello hippie un po però diciamo che il mio furgone era molto bianco molto neutro molto ben tenuto per quei tempi con il tetto a soffietto quattro posti insomma presi questo furgone e di lì diciamo che già un po cambiò il mio stile di viaggio no perché mi resi conto presto di poter andare via estate inverno potevo andare a sciare io lo associavo con il calcio sempre pensavo che col freddo invece specialmente un furgone picco no no aveva un bel riscaldamento dentro era un furgone tedesco full option quindi aveva una stufa dentro proprio un riscaldamento interno autonomo a diesel che il tetto l'accendevi potevi andarci sono andato in montagna Cervini a dormire nel parcheggio degli impianti io dormivo lì la mattina mi alzavo andavo a fare snowboard e tornavo là e quindi perché ogni tanto mi succede che qualcuno mi chiede anche se può venire siccome qua c'è stato un periodo di carissimo affitto se può venire in irlanda in frugone ad attendere io dico sempre ma col freddo non lo so invece no se ci sono questi modelli che hanno il riscaldamento alla grande sì 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 sono attrezzatissimi camper dentro è una mini casa un campo il mio era un camper dell'87 quindi ti puoi immaginare un camper di pari livello che compri adesso a un termostato che tu regoli te la temperatura la stessa temperatura estate inverno ho fatto tutto da solo ok dentro mentre dormi non c'è problema non c'è nessun problema di chiaramente se sei a meno 20 deve avere qualche isolazione in più qualche cosa di diverso ma esiste la possibilità di farlo senza problemi benissimo bene quindi comincia a girare e da lì parte proprio il qualcosa di diverso no una delle decisioni a dici un pochino sì sì probabilmente un poche prima con qualche viaggio che ho fatto in indonesia dove avevo iniziato a surfare appunto i miei primi viaggi durante le vacanze diciamo classiche avevo un po toccato un po la mano di altre culture poi arrivai al furgone insomma il lavoro fisso tutto ben realizzato proprio al punto in cui avevo realizzato diciamo tutto il mio appartamento dove vivevo monolocale dove vivevo da solo e niente arrivai a un punto che fece un viaggio con un amico vabbè ma è la mia decisione lì dentro era già scattata io stavo già prendendo un diploma di bagnino stavo facendo per diventare bagnino sempre servire quando uno deve cambiare vita può sempre servire perfettissimo sì più più cose sai meglio è no più in gioco esattamente e insomma sono arrivato appunto questo punto ho detto ok guarda mi lascio tutto qua facendo le cose come si deve ho lasciato il mio appartamento ho lasciato il mio lavoro mi sono licenziato che tutti mi dicevano sei pazzo ti licenzi da lavoro così sicuro per far cosa io avevo un amico che che aveva passato molto tempo con me abbiamo amici lui era andato alle canarie e lui faceva appunto il bagnino alle canarie e io lì per lì andai a trovarlo una volta vedi un po e la buttai là così dice ma c'è posto qua per fare queste cose qua lui dice ma se vieni magari però lì per lì non è che poi queste cose sai si dicono tante volte ma poi e invece no nella mia testa lavorava e niente e niente lasciai tutto e col mio furgone una sera salutai dice ciao vado ho messo dentro la mia tavola da surf due cose nelle valise proprio due minimo essenziale non avevo molti molti costumi non avevo legami sul genere mia mamma che era lì mia sorella però niente che mi facesse frenare ero pronto e partì e diciamo io io mi imposi un po di fare un bel viaggio lungo ripassai dalla svistra da questi amici che avevo comodo il furgone per farlo vedere un po prima di partire e ripassai dal di lì e non avevo una meta fissa il primo posto che conoscevo un po era proprio la costa atlantica francese dove potevo fare surf e quindi riveni verso la costa atlantica francese mi fermai un po qui mi fermai un po qui parlai un po con i francesi cose varie poi un po qui la lingua un po mi frenò nel senso era più difficile per me che non parlavo nient'altro che l'italiano e forse un inglese maccheronico imparato in indonesia niente di veramente serio proprio sopravvivenza pura e niente mi fermai qui non sono due settimane girai un po e poi dice che vado verso la spagna che avevo nel nord della spagna un altro amico che viveva in asturia vive ancora in asturia e la mia seconda meta diciamo nella sempre per avere una meta proprio per non essere in giro a senza meta senza fissa dimora anche andrai verso l'asturia feci sempre tutta la costa perché mi piaceva la costa non toccavo le autostrade perché c'è tutto fuori dall'autostrada così mi agi pezzo per pezzo assolutamente ti gusti passando giornate intera la guida da solo con cartine geografici è proprio è quello il bello perché se ce la faccia ce la fanno troppo facile chiaramente a quei tempi non c'era non c'era avevo un nokia proprio di quelli sperimentali non so come si chiamavano 33 10 una roba 3 10 proprio piccolissima non c'era intra non c'era niente quindi avevo credo forse un gps che tra l'altro non usavo più di tanto che forse mi doveva solo cavare da le situazioni più critiche e insomma è così partì e andai verso la spagna e poi arrivi finalmente alla all'isola si dopo tutto portogallo tutto fin in giù e niente nella mia testa era di andare in marocco farmi una strada al marocco poi succede di tutto in questo viaggio ero a un benzinaio a gibilterra leggevo il giornale e lessi che la barca che mi avrebbe dovuto portare le canarie era rimasta incastrata e quindi non potevo andare in marocco perché non c'era più la barca che mi portava di là quindi anche lì il mio viaggio come sempre succede uno si fa un piano a che non funziona mai mai avevo pochissimi piani pochissimi piani ma non funzionavano lo stesso proprio il segnale che bisogna sempre avere un b un c un d di piano se vogliamo fare delle scelte nella vita sempre meglio averne più di uno e niente alla fine riesco a prendere una barca da portimao portogallo vado alle canarie e niente sono rimasto la due anni più o meno lavorando ho trovato subito da lavorare prima come bagnino ok in hotel dell'isola che non ti dico che che livello poteva essere tutti hotel all inclusive di turisti inglesi la tasso media moltissimi inglesi come è stato l'approccio con gli inglesi in vacanza sai sono un po particolari ma tra i pessimi direi credo che la non voglio generalizzare sul popolo perché non mi piacciono le generalizzazioni però la classe la classe media che riempie quel genere di hotel lì è proprio da lasciare perdere proprio si fanno tutto il giorno a bere questo è quello che si bevono e basta si dimenticano i bambini in giro si dimenticano tutto te devi recuperare tutto di stare attento che non si distruggano non si spacca il bagnino lì deve fare un'opera psicosociale quasi psicologo deve fare più che il bagnino ok 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 bene allora quindi esperienza che poi hai trovato il lavoro da da operaio dopo dopo un pochino lì e mi dici che hai imparato lo spagnolo sul posto veramente e quindi quello che noi pensiamo di spagnolo che diceva beh stime l'italiano no giusto per me per me che io non sapevo una parola cioè sapevo quelle due parole che uno può conoscere così orecchio cervezza e non so cicco cicco per favore queste cose qua quando poi mi sono trovato a lavorare perché all'inizio lavoravo come bagnino quindi lavoravo da solo poi feci l'odonto tecnico in un laboratorio dovevamo in dieci a strettissimo contatto quindi dentro una cameretta tra l'altro per la mia esperienza che avevo molto lunga io ero quello quasi con più esperienza quindi tutti venivano diciamo da me dovevano passare da me per lavorare e quindi mi trovai che non capivo nulla cioè di quello che diceva ma più o meno quanto è durata questa sensazione di non capire tre mesi tre mesi io credo sì i primi due tre mesi sicuro io ho parlato pochissimo pochissimo parlavo con il mio capo ascoltavo tanto ma era veramente difficile anche perché probabilmente io sono una persona non più giovane innanzitutto perché avevo già 36 37 anni quest'anni qui e in più comunque anche io sono di quelle persone che quando parla voglio esprimermi bene cioè se devo un po essere incerto non mi viene non riesco a parlare fluido se parlo fluido voglio avere anche sei per una questione di botta e risposta no uno mi dice una cosa e avere la risposta pronta quel passaggio lì ci vuole un po per almeno su di me ci ho voluto un po per averlo in spagnolo ci sono voluti tre mesi buoni sicuramente dai poi dalla mia avevo il vantaggio che dentro lì c'era spagna ma c'era di tutto sud america uruguay venezuela tutti gli accenti a spagnoli tutti gli accenti dialetti possibili che hanno in sud america perché alla fine usano proprio termini diversi per dire la stessa cosa e anche tra di loro non è che si capissero sempre al cento per cento quindi ogni tanto si dovevano spiegare con vocabolario chiedere sinonimi sai dire ma che cosa vuole dire quello ma che cosa vuole e questo mi aiutava mi aiutava un po capire un po tutte le varie sfumature bene 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 quindi questa è l'esperienza di forte ventura e quindi che ai tempi era ancora più selvaggia di quanto lo sia oggi quindi senza dubbio non c'era c'è una natura fantastica probabilmente un posto molto genuino però non c'era magari chissà chissà quali altre opportunità o chissà quale civiltà da in cui inserirsi bene quindi dopo di questo cosa succede dopo di questo diciamo sono passati di lì quasi due anni e io dopo un anno e mezzo più o meno un amico che mi dice così sempre con questi discorsi che si fanno la sera parlando tra amici così o davanti al surf al mare mi dice guarda la mia ragazza ha un ristorante in svizzera la mia ragazza è svizzera lui mi dice il suo babbo ha un ristorante in svizzera e cerca un aiuto cuoco un aiuto cuoco e mi dice guarda lui verrà io mi ricordo se fosse stato come maggio quando abbiamo parlato lui mi dice verrà in agosto e viene qua se te vuoi parlare non so come siamo finiti in questo discorso però io due tre mesi prima di sì 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 è una cosa mi può interessare anche perché appunto ma l'altra mia persona era lo snowboard certo quindi lui aveva un ristorante scusa non ho specificato proprio sugli impianti in svizzera a 2000 metri un posto che si chiama rosa posso dire vicino davos dove c'è il c7 un posto nel graubund proprio montagna montagna dentro del paura del freddo non ce l'avevi non è che ti sei fatto il problema dicevo là sopra è freddo non c'è nessuno avevo il frugone con riscaldamento non c'era problema quindi quello ti da sempre salvati da quando hai superato quel blocco lì a legge è andato sì 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 e niente gli dico di sì però passano appunto mesi passano mesi nello stesso tempo proprio uno due settimane prima che deve venire questo signore a conoscerci per andare a lavorare la conosco una ragazza che viene in ferie anche lei svizzera conosco una ragazza e no dice anche la svizzera coincidenze proprio io ero in una discoteca con così parlando una del forse sono uscito tre volte in due anni a fortaventura perché io ero molto surf ho fatto tanto surf lavorare surf lavorare mangiare dormire e basta e niente conosco questa ragazza la conosco nello stesso tempo arriva nella settimana in cui lei è a fortaventura arrivano anche i genitori di questi di questa altra ragazza del ristorante insomma per farla breve io dentro di me ha pensato una svizzera mi chiama c'è qualcosa che devo andare per forza esiste perché nel giro di due settimane ho conosciuto una bella ragazza svizzera e ho trovato lavoro quella che è la legge della trazione o il karma parlando di onde di cavalcare l'onda proprio che è venuta ho detto ok si sposava bene anche col fatto dell'inverno l'ha l'idea di farmi un inverno lì perché si trattava di andare a fare il stagionale quindi si trattava non era niente di definitivo andavo lì a farmi 4 5 mesi di lavoro ben pagato era un aiuto cuoco una cosa che io potevo fare perché si partiva da fare lavapiatti e qualche cosa qualche dessert qualche tutte cose semplici in un ristorante italiano quindi era tutto ben e qui uno direbbe ma tu se non l'hai mai fatto com'è che t'hanno preso perché tu dici il passato di famiglia romagnola e questo ha giocato sicuramente 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 sì 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 io non diciamo io non mi sono spaventato per niente da questa situazione anzi è una cosa che era tutto la mia famiglia abbiamo sempre cucinato molto io venivo da questa tradizione di cuochi in casa un po' anche io diciamo la cavavo abbastanza bene da solo nella mia sopravvivenza certo l'idea di partire come lavapiatti come aiuto cuoco per fare sui piatti freddi le insalate qualche deserto detto ma si può fare provo e comunque se hai avuto una cosa positiva che magari vedo che tanti non hanno appena si sente parlare magari di tu avevi capito già delle altre carriere più professionalizzanti diciamo qui sarebbe stato comunque un ritornare a così agli inizi e partire di nuovo dall'inizio dal basso tu non hai avuto nessuna remora questo è importante così almeno uno riesce a cogliere l'occasione magari altri avrebbero detto no sinceramente non me la sento e quindi tutta quelle serie di cose che poi sono successe non sarebbero non si sarebbero potute sviluppare se tu avessi avuto diciamo questo questo blocco dire no no io meno di questo no 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 quindi grande grande attitudine no diciamo non mi sono posti il problema diciamo io non è che forse la mia semplicità molte volte prendo la decisione senza poi pormi il problema veramente di quello che può essere dall'altra parte ci penserò la filosofia surfista di prendere l'onda per me in quel momento lì la portata darsi affidarmi più importante anche provare se ero ero anche all'estero per delle ragioni diciamo di sperimentazione non è che io sono scappato non è che avessi problemi c'era questa voglia nessuna parte no era più per conoscere anche culture diverse il fatto tanto lavoro prima in italia eri arrivato mi diceva un punto che dice ok sono arrivato tutto qui e poi e quindi c'era un punto di saturazione comunque quindi c'era tutto un mondo da esplorare bene quindi come te la sei cavata in svizzera come l'hai vissuta ma molto bene molto bene io della svizzera subito chiaramente le cose positive sono l'organizzazione tutto arrivi lì che è tutto già a posto noi documenti ce li hai sai quanto prendi di paga se non sei le canarie regolare probabilmente a fine settimana cosa paga regolare a fine settimana senza dover dire oh mi paghi o no ma non ci sono sì no era tutto a fine mese normalissimo ma tutto ben liscio come l'olio sai tutto funzionava però lì come come te la cavavi allora lì era un ristorante italiano quindi diciamo col padrone era italiano sua moglie era svizzera tedesca tedesca e parlava anche un po italiano e un po svizzero tedesco il cuoco era tedesco quindi un po lì ho iniziato a diciamo a entrare nell'ottica però in una maniera comunque abbastanza soft perché cominciavo c'era un pizzaiolo italiano c'era qualche cameriere diciamo che eravamo in una percentuale che mi permetteva sì di parlare quando volevo con il cuoco che diciamo il rapporto diretto lui era tedesco però ragazzo giovane che anche lui dentro un ambiente dove ci sono altri che parlano italiano lui faceva piacere infilare due parole in italiano ogni tanto a me altrettanto in tedesco perché comunque nello stesso tempo veniva la mia ragazza a trovarci fine settimana quindi diciamo che il primo come primo approccio è stato buono anche perché non era proprio cento per cento in una direzione in un altro è stato buttato nella mischia diciamo adesso parla tedesco e devi devi cavartela un approccio un po soft bene 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 e lì quanto tempo secondo te ci hai messo per arrivare a cavartela un pochino quella lingua a capire un po un po tutto com'è com'è andata quella ma lì forse adesso la lingua quello che ci ha voluto di più però all'interno lì del risultato è molto veloce perché entri in un sistema che è già ben collaudato sono abituati a cambiare persone per la stagione quindi entri in un sistema molto veloce una settimana due sei già dentro conosci poi il paesino è piccolo quindi fare una scelta del genere secondo me è molto facile se si fa per lo stagionale è sicuramente molto meglio che andare in un posto definitivamente se ti mangiare il buon lavoro da subito certo 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 sì estremamente rilevibile è uno step che ti permette anche a te di valutare anche dove sei in quel modo lì non sei così legato che devi stare non hai grossissime cose da perdere no quindi diciamo esatto male che ti va rimane lì quattro mesi ti fai i tuoi quattro mesi cinque mesi quello che è poi non ci torni più poi se vado da un'altra parte bene o male nella ristorazione qualcosa trovo perché senza dubbio quindi è un gran vantaggio è che finché c'era la ristorazione speriamo riparta sicuramente era una una cosa molto flessibile per partire bene senza dubbio senza dubbio e ti chiedevo proprio a livello di arrivare a una maturità linguistica con questo svizzero tedesco come quanto tempo ci hai messo come l'hai vissuta allora lì io ho lavorato per un po e facevo anche per miei ragioni ci parlo sempre per me nel senso lì ho fatto molti stagionale poi io partivo andavo via quindi partivo cinque mesi poi stavo tre quattro mesi c'è stata una volta in perù un'altra volta ho preso su mia moglie con il furgone si è stati quattro mesi in giro per l'europa sempre coste atlantiche spagna un'altra volta ho fatto sei mesi alle canarie d'inverno quindi è realizzato quello che per molti il sogno di poter fare queste grosse pause di poter staccare di potersi ricaricare stare in mezzo alla natura quindi sei riuscito sei riuscito senza neanche diciamo doverti sbattere chissà che per dicere adesso progetto la mia vita così no è successo quindi grandi no sì ho preso sicuramente la palla al balzo nel senso che mi sono trovato nella condizione generale di poter fare delle scelte di questo genere qui nel senso lavoravo come stagionale si guadagna bene risparmiavo la vita che facevo fuori andare via con un furgone ai costi sono bassi chiaramente mia moglie per ragioni altre che lavorava a scuola riusciva a avere delle pause abbastanza grandi che si permetteva di venire con me e quindi diciamo per questo periodo è andata bene questo passaggio dopo io mi sono trasferito nella città di mia moglie anche lì ho continuato un po tra un cambiamento di ristorante un altro nel senso lavorando nella ristorazione puoi sempre cambiare io lavoravo un periodo poi come sempre detto con mia moglie per me la svizzera era un posto in cui io potevo vivere ma non 12 mesi all'anno nel senso anche metaforico magari posso certamente vivere 12 mesi anche di più in svizzera però ogni tanto avevo bisogno di fare delle pause perché mi mancava mio oceano mi mancava il clima c'erano delle cose per cui per me era importante anche uscire dalla svizzera e in questo modo qui abbiamo sempre gestito la cosa in due andando via per periodi lunghi in svizzera sul fatto della lingua finisco la domanda quando sono andato a lavorare nel primo ristorante dove erano tutti svizzeri era un ristorante svizzero tedesco lì ho avuto lo scatto proprio lì ho fatto come si fanno fare un corso intensivo svizzero tedesco per mi ricordo ci ho lavorato per un anno in seguito e lì sì lì ho avuto lo scatto posso dire che lì ho imparato veramente tanto sia a livello di gastronomia che a livello di lingua e forse è stato dopo tipo un anno e mezzo che ero lì forse due anni ok bene bene vedi quindi ci insegni che anche stando in una in una cucina si può imparare tanto di lingua perché la cucina è un ambiente pressurizzato per cui poi uno deve capire al volo i comandi deve capire stare nel mood della cucina i canti e poi c'è se entra a servizio devi parlare con lui con l'altro di far da tramite poi a quei tempi li feci anche un corso di tedesco perché diciamo che per lavorare alla fine essendoci molti stranieri anche in svizzera non tutti parlano lo svizzero tedesco quindi diciamo la lingua che puoi parlare per essere sicura è tedesco chiaramente e quindi feci un corso di tedesco di primo o secondo livello proprio un corso base che quello mi aiutò un po proprio anche per lo scritto per avere un'idea un po migliore e niente dopo lì mia moglie quindi a casa si parlava anche italiano perché io ho sempre continuato comunque a parlare italiano anche adesso in casa io parlo italiano mia moglie parla svizzero tedesco a questa anche con i bambini noi ci rispondiamo ognuno nella sua lingua e i miei due figli parlano francese perché vanno a scuola qui con i bambini parlano francese quindi loro mi rispondono in francese che bello è una cosa è una cosa che abbiamo imparato tra virgolette in svizzera perché essendoci molte famiglie multiculturali ci sono proprio degli studi pedagogici e mia moglie insegnante quindi un po dentro queste cose che dicono che ognuno deve parlare con la propria lingua madre a è importante nel rapporto che hai coi figli che tu conservi la tua lingua madre perché nella tua lingua madre diciamo tu comunichi molto più le emozioni 6 6 più autentico se più te stesso infatti se tu che parla in canale lingua saprai bene che quando parli inglese è come se un'altra non meno le sfumature sono meno le senso ai molti meno strumenti per poter per poter esprimere tutto se stessa assolutamente è bella bella cosa bellissimo allora poi qui naturalmente c'è tutto un discorso di anche un po superamento paure maturazione psicologica quindi se dovessi vedere un po da distante no tutto questo percorso bello lungo che diciamo sono sì 12 anni 13 anni però sono molto variegati quindi c'è un veramente un sacco di roba da poter guardare no quindi che cosa sono state le le cose che hai dovuto superare diciamo cosa riesci a notare che è cambiato nella tua psicologia no magari da quando sei partito che qualcosa cosa ti ha aiutato in generale a fare tutti questi passi è una domandona domandona assolutamente sì ma le paure diciamo paure e anche molti probabilmente sono più schemi mentali no sono più ansie che paure vere perché forse come a volte dico con mia moglie no la paura vera è sana alla fine non è una cosa sana io lo paragono sempre agli sport perché avendo fatto sport anche estremi la paura c'è quando fai sport come sono le onde grandi la paura non è che la senti di perlino è un'adrenalina è una cosa sana non la paura dell'onda che arriva grande molto più grande di terra sanissima che devi avere per sopravvivenza quelle quelle che molte volte perché molte volte noi noi chiamiamo paure sono più ansie non sono cose che sono prima di arrivare a quello che veramente il tuo muro paura dalla paura insomma sì sì è una cosa che che non è neanche fisica alla fine molto mentale no e quindi probabilmente sì quello che quello che è cambiato in me tanto sicuramente sono gli schemi mentali no il mio modo di la mia prospettiva di vedere io ti vedo estremamente calmo no in generale adesso tu eri già così o questo viaggio ti ha aiutato a trovare una calma ancora superiore sicuramente 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 ti calmi sicuramente anche diciamo che era aumenta aumenta si 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 correggia un po la fiducia che ha in te stesso valuti più meglio i tuoi punti forti valuti meglio il tuo ci sai valorizzare meglio anche nei confronti degli altri c'è la paura di licenziamento o di dire perdo il lavoro e troverò domani questa cosa che io non ho più da anni non mi interessa proprio minimamente anzi io penso che i giorni più belli della mia vita sono stati quelli che in cui mi sono licenziato cioè in quelli perché arrivi a casa io lo dicevi con l'espressione particolare no che quando ti sei licenziato ogni ogni piccola mostra che facevi verso quella quel traguardo era un alleggerimento proprio al tempo proprio quando mi licenziato per andare all'estero la mia prima volta mi ricordo benissimo quando lasciai la casa già era come se mi cavassi un sacco di peso da addosso no ti senti respiri meglio sei più leggero dici wow psicologicamente sei libero di nuovo assolutamente sì che bello che posso andare senza senza avere troppi pensieri senza dover pagare l'affitto senza avere quell'altro 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 ancora il fatto del camper è una grandissima libertà perché non hai non hai l'affitto come spesa ricorrente quindi già psicologicamente uno si libera no è il fatto che a qualsiasi temperatura te la puoi cavare quindi questa è una dritta che cercherò di usare a mio favore questa cosa se 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 ti sai accontentare sicuramente se è una cosa che che ti piace poi puoi valutare tutte e due le cose nel senso è sicuramente un bel una bella esperienza di vita in generale che faccio la vita più diciamo da da azienda da dipendente da da tanti anni vedo che così le persone attorno hanno tutti questo step e poi come faccio con l'affitto e poi come faccio che quindi questa cosa della è una grandissima libertà di poter considerare uno stile di vita più semplice con un camper bene 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 e allora andando verso la conclusione ti chiederei se hai qualche consiglio per chi ha sentito la tua storia per poter dare così qualche qualche dritta per potersi liberare a tal punto poter un po ripercorrere i tuoi passi se c'è qualcosa che ti viene in mente in tal senso ma sicuramente di non farsi troppi pensieri non pensare troppo una cosa che può aiutare perché si tende a pensare molto si tende molto a volersi costruire una visione che molto spesso non succede cercare di risolversi il problema immaginandolo quando poi magari davanti quel problema ha una faccia totalmente diversa quindi chiaramente la nostra ilucubrazione non ha neanche tanto senso certo senza dubbio è proprio una questione di quando il problema c'è davanti poi tutto quello che ti hai pensato tutti gli insegnamenti che ti sei fatto poi non servono veramente poi più a grandi cose è meglio dimenticarsi tutto e pensare più che altro magari valutare altre cose valutare il clima al posto dove sei valutare il quartiere no più che non fermarti magari al primo alla prima casa al primo quartiere cercati un posto che magari ti si addice di più anche all'interno della stessa città all'interno della stessa cultura una persona sta bene insomma non è lì sacrificato assolutamente sì poi un altro insegnamento è quello della lingua che tu l'hai imparata proprio così boom diretto quindi è una bella scuola no quindi avere il coraggio di buttarsi in questo senso sicuramente aiuta sicuramente aiuta adesso ad esempio che vivo in Francia adesso è stato per me la terza quarta lingua alla fine chiaramente più ne impari più è facile impararne perché puoi sempre affrontare quelle che sei prima quindi hai tutto un meccanismo di sinonimi che rimbalza da una parte all'altra e quindi è sempre più facile diciamo dopo la parte difficile la pronuncia chiaramente che quella non la impari se non sul territorio quando sei lì veramente ma comunque anche non spaventarsi non credo che sia giusto spaventarsi perché è anche un valore aggiunto che chiunque di noi che va all'estero quando va dopo dopo a fare qualsiasi lavoro tu ti porti dietro l'esperienza che tu hai avuto in un'altra cultura perché imparare una lingua non è solo saper dire quella determinata cosa in quella determinata parola cioè quello quella è la memoria la memoria non è sapere una lingua la memoria è sapere a memoria quelle cose lì ma non te ne fai nulla se non conosci la cultura come loro usano quel termine lino tu traduci tutta la lettera nato a testa vengono fuori degli strafalcioni che quando farli con gli altri c'è da liberare sempre in tedesco perché forse col francese a zeccare la parola in francese più facile in spagnolo però col tedesco forse bisogna sì senza dubbio senza dubbio però anche lì anche il francese tra lingue latine noi siamo molto come si dice figurativi no noi disegniamo un po' con le parole fai un discorso che vuol dire una cosa che se te lo prendi dalla lettera vuol dire c'è scritto quello non vuol dire quello vuol dire tutto ci giriamo attorno facciamo questi grandi bei disegni di modi di dire il modo di dire adesso non mi vengono in mente degli esempi però sono metaforici diciamo a volte quindi chiaramente esatto noi siamo molto più metaforici latini che altri quindi a volte si rischia un po se se tu fai la stessa metafora lo stesso scherzo e centra simpatica che usi in italiano traduci in francese non è detto che funzioni anzi è molto spesso non funziona per niente questo per dirti che bisogna entrare dentro la cultura no non è solo imparare la lingua ma imparare la cultura imparare come loro usano quali sono le cose simpatiche quali sono l'ironia noi che ironia hanno queste queste persone culturalmente proprio e quindi quella cosa lì è anche giusto che quando noi siamo all'estero portiamo la nostra cultura con noi e quindi non spaventarti se se te non sai bene la lingua e va in un posto in cui magari non la sai bene però allo stesso tempo tu porti la ricchezza della tua italia del tuo paese e la tua esperienza di dietro dei valorizzati che un valore aggiunto è un valore aggiunto rispetto a uno che nel mio caso qui è francofono che è cresciuto qui ha fatto tutto qui tutto viene già con insomma un valore in più porti porti un sacco assolutamente bene 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 davide abbiamo detto un sacco di cose quindi io ti ringrazio di tutto questo di tutte queste esperienze molto molto ricca concentrata anche in poco tempo se 12 anni ricchi 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 di dispostamenti quindi grandissima cosa quindi davide grazie ancora e ragazzi se avete commenti se avete domande fatele qui sotto ovviamente nello spazio commenti e noi ci vediamo in uno dei prossimi video grazie ancora davide alla prossima ciao grazie a te ciao